Pronto? Uè Baru com'è? Tutto a posto compa, ma chi ne sai che è un tegno memorizzato o no? Oh compa, sogno Gennaro Oh, chi era me? Dimmi tutto compa, dimmi tutto Oh ma sei alla casa? Sì, sì, sono qua a casa, perché? Ah, passo un attimo che ti vengo a trovare, visto che non mi vedono un sacco di tempo Ah, va bene, ti aspetto qua Ok, ah, 5 minuti arrivo, stai partendo mo' Ciao, 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 ciao Oh, ehi, ehi, ehi Mamma, è possibile che ogni volta mi devi chiamare sempre con questi versi, che c'è? Ma tu ti ricordi che adesso Gennaro è? E' quel tuo collega di lavoro Ah, ok, ok, mo mi ricordo, va bene, va bene Allora com'è compa, ancora novità? E niente, compa, è già quasi un mese che vado in una clinica per curare i miei problemi di memoria Ah sì, e come va? Ah, non ci lamentiamo, sono quasi guarito Ah, ok, come si chiama sta clinica, dove vai? Ehm, hai presente quella festa che si festeggia verso la fine dell'anno? Quella con l'albero e il presepe Sicuramente ti stai riferendo al Natale Sì, 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 bravo Ehm, ci sono due animali che sono il... Il... O quella si ne è Ok, e c'è una donna che... Ehm... La Vergine Esatto E come si chiama lei? Mario, compa Ecco, bravissimo, Maria, Maria Maria Finalmente mi hai chiamato col mio nome Dimmi tutto Ma ce lo potete aggiannare con un cazzo Si chiama il chiroclinica caparcamarre, curto Scoli, cazzo E meno male che si è andata con i miei capelli di memoria Cangiala, compa E meno male che si è andata con i miei capelli di memoria